Cucinarefacile.com Dovremo utilizzare 3 tuorli, 25 g di burro, la scorza grattugiata di un limone, 100 g di zucchero semolato, il succo di 3 limoni, 250 ml di acqua e 50 g di farina. Cominciamo versando il succo del limone, saranno circa 125 ml, lo verso in una ciotolina e aggiungo a poco a poco la farina che vado a setacciare per evitare la formazione di grumi. Mischio il tutto con una frusta per ottenere un composto liscio, morbido e senza grumi appunto. Prendo un pentolino e verso all'interno i 250 ml di acqua. A questo vado ad aggiungere il composto di limone e di farina, insieme ai 100 g di zucchero semolato e inizio a mescolare per amalgamare bene. Aggiungo la scorza del limone grattugiata e poi andrò a mettere questo composto sul fornello. Facendola cuocere, il lemon curd si addenserà. Quando diventerà un po' più solido, aggiungiamo i 25 g di burro e lasciamolo sciogliere. La nostra crema adesso è pronta, sarà abbastanza solida e andrà benissimo per farcire crostate e torte in generale. Se la vogliamo invece un po' più fluida, basterà di inmezzare la dose di farina. Da cucinare è facile per oggi è tutto e arrivederci alla prossima videoricetta.